Senz'altro, senz'altro, io ne sono una prova e mi dispiace di aver aspettato con Piora 48 anni, ma spero di recuperare. Grazie di cuore. Niente. Stanco? Stanco? Ettore? Ettore sei stanco? Cercherai di vincere oggi, Ettore? Hai fame, Ettore? Parla, eh? Mi vuoi baciare, Ettore? Un tipo mingerlino come te, riesce a domare una bestia del genere? È lui che doma me, infatti. Che razza è? Corso. Un corso, anche questo? Quante anni ha? Un anno e un mese, tre mesi. Si chiama? Ulisse. Arriva da? Rosolini. Grazie. Abbiamo scoperto il cane dalla lingua blu, ma mi son dimenticato a vedere... Allora, intanto vediamo se questo cane ha la lingua blu. Come ti chiami? Sharon. Sharon. Intanto il cane come si chiama? Sean. Sean e Sharon. Allora, vogliamo vedere prima la lingua di Sean. Se ha la lingua blu. Vediamo. Dimostrazione. Ha la lingua blu. Ma se Sean ha la lingua blu, la padroncina Sharon avrà la lingua blu? No. Vediamo. No, non c'è la blu. Non c'è la blu. Niente. Allora, siamo qui con i fotografi ufficiali della quarta mostra del cane. Io vi voglio fare una domanda di quella difficile. Ma è più bello fotografare i cani o le padrone dei cani? Tutte e due. Sono più belli i cani o chi porta i cani? Dipende se chi porta il cane è maschio o femmina. A te piacciono gli uomini o le donne? Tu cosa dici? Gli uomini. Dai, vieni con me. Alla quarta mostra del cane, fra tante razze, ti capita, e tanti padroni, ti capita di trovare gente come il signor Blundo Gaspare. Chi arriva da? Palazzolo, a Creide. Secondo lei, perché io sono venuto fin qui a intervistare lei? Perché lei fa parte di un'associazione, ne vogliamo parlare? Allora, la nostra associazione opera, Palazzolo a Creide, è scritta all'albo regionale per il randaggismo. Il randaggismo è un problema, come si può vedere, ben oltre le aspettative delle persone. Alla base ci sta l'inciviltà delle persone. Allora, l'unico motivo è il sacrificio che porta alla dedizione, il sacrificio e la dedizione che porta all'amore per questi animali è cercare, provare di cercare una casa, un posto dove stare, dove gente che li ama, che li possa rispettare, che li possa trattare bene, che li possa soprattutto togliere dalla strada e dargli una dignità. Il randaggismo nasce dall'abbandono, l'abbandono è una cosa veramente atroce, riprolevole, cioè non ha limiti, non ha confini, specialmente in questo periodo in estate. Uno è dato dal cattivo funzionamento dei mezzi di informazione, l'abbandono, perché nella fase della sterilizzazione, innanzitutto dobbiamo parlare di sterilizzazione, la sterilizzazione è la cosa più importante che possa esistere, perché fare sterilizzare il proprio cane è una cosa che può servire non solo al cane, ma soprattutto anche agli altri. La seconda cosa, la seconda storia, la seconda fase è l'abbandono. L'abbandono è una cosa atroce, perché certi cani vengono adottati solo ed esclusivamente per far sì che un bambino possa giocare, ma invece per dargli un sogno, per dargli qualcosa, ma invece quel sogno viene infranto quando il cagnolino automaticamente diventa più grande. Ovviamente i cagnolini sono come se fossero eternamente dei bambini, devono essere sempre eseguiti, costantemente, con tanto amore, con tanta passione, e quindi posso dire semplicemente una cosa, non adottate se non li amate. Posso chiederle una cosa? Io vedo qui, cercasi famiglia che ci adotti, un cartello, e un'altra scritta ancora più bella, regalasi cuccioli. Qualora oggi non riusciamo a trovare delle famiglie, come ha detto lei, responsabili per questi cani, vuole dare qualche contatto telefonico in maniera tale che anche chi ci segue da Canale 8 possa in futuro contattarla e perché no riuscire a dare una famiglia a questi cani? Perfetto, il nostro contatto telefonico è 339-62-70-244, o se no, lo 0931-87-59-64. Ricordiamo il nome dell'associazione? Associazione Animalista Gli Amici di Sansone. Saluto tutti gli amici degli animali, fra virgolette. Grazie. Siamo pochi. Grazie per quello che fa. Ciao. Curiosamente anche il signor Gara al box delle iscrizioni. E dopo aver conosciuto alcuni dei protagonisti che tra cui a momenti sfileranno in questi tre box qui alla cava di Crocesanata di Rosolini, vorrei parlare un minuto, perché so che lui è sempre impegnatissimo con l'organizzatore di questa manifestazione, ovvero con Salvatore detto Tori Branca. Salvatore, perché la quarta mostra del cane? Allora, innanzitutto la quarta mostra del cane è nata, intanto da una passione per gli amici a quattro zampe e poi negli anni abbiamo cercato di andare sempre avanti, di crescere e tutto. dimmi una cosa, ci sono dei ringraziamenti particolari perché organizziamo una manifestazione del genere e intanto quanto ci vuole come tempo? Perché è tutto organizzato nei minimi dettagli, dalla musica al beverage per i cani, i vari stand, quanto tempo ci vuole per organizzare una manifestazione del genere? Sì, ci vuole tanto tempo, si parla di due, due mesi, due mesi e mezzo. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli sponsor, iniziamo con il centro lattoneria edile di Elvis Milana, il vecchio mulino, Dog Style, Fido Bello che sono i due negozi di animali che ci sono a Rosolini e tutti gli altri. E qualche persona fisica che ti ha aiutato, non so, i giudici, vogliamo parlare dei giudici che qui a momenti avranno un compito difficilissimo? Sì, i giudici intanto ne abbiamo nove, da diversi paesi, iniziamo con Rosolini, un grandissima persona, allevatore di quasi 10-12 razze, salvatore di Dio. Poi abbiamo un altro ragazzo di sempre di Rosolini, Rosario Gugliotto, appassionato di cani, allevatore di corso e pastore tedeschi. Da Ragusa è venuto a trovarci un dolorettatore professionale, allevatore di cani di piccola taglia, Alessandro Rabito. E poi abbiamo tre vecchie promesse delle amici a quattro zampe, tra cui il professore Mulè e Corrado Di Rosa, con la sua associazione di addestramento, e Corrado Frurido, che è l'allevatore di Rottweiler che troviamo a noto. Prima di salutarti, volevo dedicare un minuto a due persone importanti, perché la quarta da mostra del cane ci stiamo divertendo, ci sono tanti cani, però vogliamo ricordare quest'oggi due persone importanti che fino all'anno scorso erano qui con noi. Chi a giudicare, chi a portare il proprio cane ad essere giudicato? E ahimè quest'anno non sono più con noi. Sto parlando di Peppe Pricone e Barti Pietrolo, so che gli hai dedicato uno spazio particolare. Sì, allora quest'anno la mostra è nata con il primo memoriale di Peppe Pricone, poi in un secondo momento abbiamo voluto inserire un ricordo speciale per il nostro carissimo amico Barti Pietrolo. Lui possiede un pastore tedesco che stasera sarà qui con noi. La razza dei pastori tedeschi sarà un ricordo a proposito per lui. Nel frattempo abbiamo anche un altro ricordo che è quello di Peppe Pricone, nella classe dei Rottweiler. Ci siamo, mi sa che abbiamo detto tutto, quindi io ti auguro un buon lavoro perché ancora ce n'è tanto da fare. Che aspettative hai? Sei già soddisfatto? Sì, abbastanza. Già abbiamo raggiunto il numero dell'anno scorso, i 200 passacani. Passacani, stiamo andando bene. E andremo a migliorare di anno in anno. Grazie Salvatore Branche, grazie a chi come lui si impegna sempre per la cinofilia, per l'amore dei cani. Grazie di cuore. Grazie a te, ciao. Allora è quasi tutto pronto. Stiamo per iniziare con la sfilata di questi cani e abbiamo qui i giudici. Coloro che hanno il compito più ardo della giornata, ovvero andare a dire ai padroni che il loro cane è più bello o meno bello di un altro. Io inizierei dalla unica giudice donna che ha dei precedenti storici perché ha vinto la seconda mostra del cane, adesso abbiamo superato di livello. Quindi presentiamo velocemente questi giudici e poi diamo la parola ad un loro rappresentante per capire un attimino dal punto di vista tecnico come verranno visionati i vari cani, cosa sarà il carattere che verrà sottolineato al fine di far vincere un cane anziché un altro. Quindi tu sei Valentina e arrivi da Salvatore da Augusta, Alessandro da Ragusa, Corrado da Noto, questo signore lo saltiamo e c'è un perché, Rosario da Noto, Gianluca da Pozzallo, Salvatore da Rosolini, Salvatore da Rosolini. Questi sono i nostri otto giudici, ma il presidente della giuria è lui che è seduto, non perché sta comodo ma perché è infortunato. Amici di Canale 8, amici di Avola, lo conoscete benissimo. Lui è... Corrado Di Rosa, buonasera a tutti. E allora... Scusami, grazie per il presidente, ma qua giudicheremo tutti alla pari perché è giusto che sia così, perché non voglio troppe responsabilità. No, scherzo, perché è l'unico seduto, mentre gli altri hanno l'impianto. Ecco, ma non ho capito, ma tutti i giudici, ho visto che hanno i nomi dei paesi, uno come cognome, no? Ho visto che hanno i cognomi dei paesi nella provincia di Siracusa, Rosolini, Noto, come mai? Non lo so, perché... Come avete fatto a trovarlo? Una ricerca apposita. Prado Di Noto. Io sono Peppe Di Rosolini, si vede. Tu sei Peppe Di Rosolini e allora, vabbè, ci sta. Guardi che abbiamo anche di Dio, ce l'hanno mandato direttamente. Lui è il numero uno allora. Allora, cosa devo dire? Intanto ringrazio Sebi Roccare, il direttore, per aver dato la disponibilità e la presenza di Canale 8, con dei professionisti come te, Peppe. Grazie. L'anno scorso è stata una bella esperienza e quest'anno la ripeteremo, anzi vedo che grazie a Salvatore Branca, l'organizzatore, e ci siamo migliorati tantissimo, vedo l'Optima che continua ancora a collaborarci e spende su questa iniziativa perché sicuramente è di alta manifattura. Io voglio tranquillizzare tutti i presenti perché sai, quando c'hai più di 200 cani iscritti sicuramente questa cosa fa onore all'organizzatore, significa che l'anno scorso ha fatto bene lui e abbiamo fatto bene anche noi i giudici. è una mostra amatoriale, ci tengo a precisarlo. Il posto è meraviglioso e paradisiaco, la cava della Croce Santa, qui è avvenuto un miracolo importantissimo molti anni fa e quindi è giusto che gli amici del cane vengono a fare anche pellegrinaggio, quindi ha una doppia valenza questa manifestazione. Le posso chiedere una cosa squisitamente tecnica. Nei 200 e passa cani che vi passeranno davanti gli occhi, cosa sono le cose più importanti che deve avere un cane per andare al best in show? Gli occhi, il taglio degli occhi, l'inclinatura, non lo so, io sono ignorante, i denti. Allora, considerato che si tratta di un amatoriale, sicuramente l'aspetto morfologico del cane deve essere abbastanza corretto, quindi il cane deve rispecchiare lo standard. Quello che voglio dire è questo qua, oggi sarà premiato, perché è la festa del cane, sarà premiato il binomio cane-bambino, cane-uomo, perché quello che porterà avanti il futuro di questo rapporto sicuramente è l'amore che si ha per questo amico. Colgo l'occasione, anzi, per lanciare un messaggio, siamo nel periodo estivo e nel periodo estivo tanti cani vengono abbandonati, quindi voglio invitare tanti amici a stare attenti e vigilare sul proprio cane, perché facilmente si può allontanare, si può smarrire, non solo viene abbandonato, tante volte si può anche smarrire per negligenza. Quindi voglio dire e voglio anche invitare gli amici a denunciare chi abbandona i cani, ormai è considerato un reato. Bene o male, ci hanno arrivato tardi, ci sono arrivati tardi. Allora, grazie ai giudici, adesso vi verranno date delle cartellette e inizia il compito più in grado. Quindi buon lavoro e ci vediamo alla fine per decretare il bestie show che vi ricordo va in Spagna. Grazie e buon lavoro. Un applauso del secondo telecamere, oh, fai una bella zoomata, guarda qua, quarta mostra del cane a Rosolini, guarda quanta gente, guarda quanta gente. E allora, giusi cortesemente nel ring numero uno, sono urgentemente nel ring numero uno, sono arrivate le schede, non dico bugie, non dico bugie. Quindi, ora io farei un sondaggio. Avete visto?